Siamo a Fossone davanti alla RSA, la Residenza Sanitaria per Anziani, ancora in costruzione, 15 anni che deve essere realizzata, continui ritardi, boicottaggi anche perché inizialmente era stata proventata la possibilità di realizzare qua il centro prevenzione e igiene, un posto assurdo, è destinata quindi agli anziani, però siamo ancora fermi, contenzioso tra le ditte, necessità di avere ancora 750 mila euro per concluderla, questa è una situazione gravissima perché il ritardo che sta causando ASLE, quindi Regione Toscana e quindi Governatore Rossi è vergognoso, il territorio ha bisogno di questa struttura, i nostri anziani, le loro famiglie ne hanno esigenza, quindi chiediamo che il prima possibile vengano sbloccati i lavori e si proceda all'ultimazione di questa struttura fondamentale per il nostro territorio.